Presidio in via Berta davanti agli uffici della provincia per i 35 cantonieri a cui non è stato rinnovato il contratto di lavoro. 35 padri di famiglia che non hanno più di che sfamare i loro figli. Ironia della sorte, un mese del loro stipendio equivale a quello che la provincia di Isernia ha speso solo qualche tempo fa per pagare le ferie non maturate a un suo ex dirigente. Qui bisogna salvaguardare il posto di lavoro dei cantonieri. D'ora svolgono un servizio utilissimo per la nostra provincia, quindi è ingiusto tagliare questi servizi quando invece si fanno sperperi per milioni di euro per cose inutili e tutte le ruberie che sappiamo. Ma le speranze di rimettere al lavoro i 35 cantonieri non sono del tutto perse. Bisogna accompagnare questi lavoratori alla fine dell'anno, poi si deciderà cosa succederà di questa provincia e per fare questo basta veramente un gruzzoletto di denaro che tra l'altro c'è anche, solo che evidentemente qualcuno sta giocando al rialzo e pare che tutti questi servizi vogliono essere esternalizzati. Come al solito, insomma, qualcuno già è pronto dietro la porta per occuparsi di quello che questi signori stanno facendo da tempo. Le voci dei lavoratori non fanno che confermare la loro forte preoccupazione. È uno stato d'ansia non solo comprensibile ma più che giustificato. Noi lavoriamo dalla fine di marzo. Questa situazione va avanti dal 1998 con contratti a tempo determinato. Prima facevano quattro mesi, quattro mesi e quattro di disoccupazione. Poi arrivati a dicembre 2010 hanno fatto un contratto per tre anni. Dopo la scadenza di questi tre anni hanno fatto altri contratti a tempo determinato. Però l'ultimo decreto che ha fatto Del Rio dicendo che i contratti potevano essere prorogati fino al 31 dicembre 2016. Però la provincia non ha nessuna voglia di far prorogare questi contratti. Intanto in servizio sono rimasti solo dieci cantonieri con le strade della provincia che praticamente sono rimaste senza manutenzione. Con i relativi rischi per gli automobilisti. E intanto le strade della provincia di Senna chi le pulisce? Abbandonate nessuno. Sono rimaste dieci persone che sono ancora a tempo indeterminato della provincia. E quindi non ce la faranno per coprire 860 chilometri di strada.